I primi giochini dei polpettini ha coperto la pallina e anche lei ha coperto la pallina un nuovo giocatore abbiamo calciatore ora è l'ora di giocare un attimo se era per lui doveva continuare a mangiare ma non si può mangiare sempre lui ha una fame atavica ma guardate quanto sono piccolissimi piccoli 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 io ho lasciato solo i croccantini che non mangiano perché non possono mangiare umido che proprio appena lo mangiano vanno in disenteria ma guardate che amore sono meravigliosi